Franco Lunetto, primo anno in Serie C, l'anno scorso promossi dalla Serie D con un grande campionato, domenica inizia la prima giornata, quali sono gli obiettivi e i progetti di questa nuova società? Intanto dopo quella bellissima cavalcata che abbiamo fatto nella stagione 2013-2014, quest'anno proviamo a migliorarci ancora, chiaramente è un campionato molto difficile, la Serie C in Sicilia, parecchie squadre si sono rinforzate. Noi abbiamo qualche elemento che con vero piacere è venuto a giocare a Partinico da Palermo, cercheremo di dare il meglio e di fare un buon campionato, sperando di poter arrivare fra i primi, perché Partinico merita una piazza pallavolistica molto importante a livello regionale e non solo. Noi ci proviamo, ci proviamo sperando che tutto vada bene. Intanto sabato affrontiamo una grossa squadra come il Capace, una forte corazzata, perché sono due o tre società in una. Si sono anche loro rafforzate, proveremo a giocarci questa partita nel migliore dei modi.